Un minuto, le dottere per il numero uno. Groups, first line di... ... l'abbiamo detto, due volte ve lo ribadiamo, un colpo. ... per la stampa. Lasciò perdere. ... perché stiamo andando verso una giornata molto bella. ... classico, lei. ... tutto bene, negli anni bene, che sennò... ... è quasi meglio lo perderle. ... di essere ancora presenti. ... per questi... ... alla grande. ... che lavoreranno anche oggi alla grande. ... che lavoreranno? ... che lavoreranno? ... che lavoreranno anche oggi a tutti i trofei e mezza lama. Dicassi in forma. Speriamo. ... a tutte le domande... ... a tutte le volontari... ... può avere la fondazione... ... per l'acqua... ... in questa... ... high and great... ... e Kilian, il prego, il prego è sempre prego, Kilian. Ah no, io non sono presto. ... idealmente vi vorremmo da meglio. ... so spingere. Troppo presto. Eccoli qua, i duri. ... sapevo che i duri partivano sugli angoli, eh? Era... ... come è? ... e Pecet? ... eh. ... quanti mezza lama? ... otto con questo. ... bravo Pecet. Fatica, eh noi. ... tranquilli, è lungo, eh? ... eh. Dove ce l'avete, l'altra guida? ... l'altra guida? Ah, è già, su Brighton. ... è già su Brighton. ... ... ... ... ... ... intanto, bene saluto anche la parte. ... ... veramente sarebbe in paradiso, perché sopra i 4.000... ... mezza lama. Siamo in attesa di potervi dare le ultime indicazioni. ... punti di ristoro. Vi ricordo che sì, due cancelli orari. Due e trezza al Brighton per le squadre maschili viste. Una. Due e 45 per quelle femminili. ... secondo passaggio Brighton, 5.35 e 45 per le deuxième barrage horario. ... e se la cavalletta al partire con alcuni protagonisti più volte via. ... dimmi Vanno, stiamo qua. ... Andre! ... a dialogo, attenzione prima, a sedo, a sedo. ... oh, oh yeah, eh? ... eh, via! ... pronto Vanno! ... pronto! ... ... ... ... ... Inizia via la depo di Metzalama! Venciare a Metzalama! Inizia via la depo di Metzalama! Ho ricordo venciare per voi, per voi che siete il cuore del topo Metzalama! Devozione! Viva! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie! Bravi bravi! Grazie! Grazie! Vai! Allunga ancora, per il coro fresco, vai Villan. Grande, vai, vai o lei, vai eh. Vai o lei, vai o lei. Vai, 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 vai Vai, 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 Robert! Vai, Boschazzino! Giambiano, dai che Boschazzino è terzo, è quarto, dai! Dai, Filippo! Filippo! Com'è? Forza, forza duri! Vai Fazio, vai Fazio! Dai, tigre! Vai, tigre! Dai, Davide! Dai, Davide, dai! Dai, Giovanni! Puta per terra, puta per terra! Dai, 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 Andrea, dai! Dai, che c'è buono, dai! Brava, Glo! Super! Super, Glo! Dai, Roberta! Eccezionale, dai! Dai! Forza Italia! Grandissimi, grandissimi! Grandissimi! Via, 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 via che andiamo! Adesso, eh! Via qui, via! Grande Olz, eh! Grandissimi! Grande Lanfra! Grande Lenn! Bravissimi! Bravo, Lenn! Grande Pedro! Dai, Dama, dai! bravissimo pedro bravi bravi bravo damiano via dai attaccati dai sotto dai steppe e abbiamo il secondo passo per gara davieri pedigli dietro l'attenti all'esereto con finale del marzo con la sesta rama vincono chi le dà è una sbocata chi le dà guida ma i teori dell'europega dietro l'angri daniele pedigli arense leone figliere bascacchi segre sono vari Grazie a tutti. Grazie a tutti.